Allora, vediamo... Spaventare francesi con il bidet? Fatto! Spaventare polacchi minacciando di togliere i fondi europei? Strafatto! Chi è il prossimo? Uh, l'Italia! Potrà inventarmi qualcosa sui negozi che hanno finito il lievito! Non così fretta, mostro di ossa! Ehi, ciao! Sei del club Bambini Posseduti? Niente autografi oggi, ho da fare! Sono colore che ti impedirà di insozzare il nostro bel paese con la tua festa straniera! Ah, ho capito! Tu devi essere quello che chiamano boomer! Tieni i tuoi termini inglesi per te! Noi in Italia abbiamo la lingua più bella del mondo! Ah, ah, ah! Che cattiveria! Ma perché non vuoi che porti Halloween in Italia? È una stupida festa consumistica americana e noi non vogliamo importare le cose americane! È una mazza da baseball, quella? Abbiamo già le nostre feste tradizionali che sono centinaia di volte più belle delle vostre! È meraviglioso! E quali sono? Il primo novembre abbiamo la festa di ogni santi! Ogni santi? Esatto! È un nome fico! È la festa in cui festeggiamo tutti i santi! Proprio tutti tutti i santi? Tutti i santi! Wow! Aspetta, non hai ancora sentito niente? Sai come la festeggiamo? Come? Andando a MESSA! Ah, ah, ah! E beccati questo! Cos'ho visto! Ah, aiuto tonato! Ma scusa, se ogni santi è il primo novembre, il 31 ottobre è libero per Halloween? No! Il 31 ottobre è la vigilia di ogni santi! È il 30 ottobre? È l'avvento della vigilia di ogni santi! È il 29 ottobre? È la fiera del tartufo di Fragno! È il 2 novembre? È la festa dei morti! Ah, perfetto! Quindi ce l'avete anche voi? No! È tutta un'altra cosa! Noi festeggiamo in modo diverso! Come? Andando al cimitero! Anche noi! E andando a MESSA! Ah, ah, ah! Dai, che cosa ti costa? Lasciarci divertire un po'? Ci si traveste e si mangiano le caramelle! Abbiamo già i nostri buonissimi prodotti tradizionali da mangiare! Tipo? Le fave dei morti! Eh? E la zuppa dei cetri! Ah! Ok, Boomer, lo hai voluto tu! Ah! Lasciami, Boomer! Uno non può neanche lavorare in pace! Ti farò vivere l'esperienza più terrificante che tu abbia mai vissuto! Buon viaggio! Ciao, ciao! Oh, che roba è questa? Possa via! Questa non è l'Italia vera! Che è quella di quando ero piccolo io! È un onore per me essere la prima presidente del Consiglio Rom! Nooo! Le fave dei morti! Sì! E poi sarei io quello strano! Torniamo al lavoro! Per un po' dovrebbe lasciarmi in pace! Ci vogliono giorni per tornare a piedi! Il bonus monopattino! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no!